Musica Musica L'autrice di questo volume è l'avvocato Renea Rocchino Nardari che è qui al centro e accanto a me invece c'è Irene Pivetti, la più giovane forse, presidente della Camera dei Deputati quindi della terza carica dello Stato, accanto abbiamo il presidente del Tribunale di Treviso il dottor Giovanni Schiavone e il volume Figli Violati, se storie vere di coppie separate diciamo tutto di questo libro subito, edito da Effatà con la collana, sentite un po' come si chiama vivere responsabilmente. La prefazione è del dottor Carlo Nordio Trevigiano, molti di voi lo conosceranno è il sostituto procuratore del Tribunale di Venezia che ha definito questo volumetto inquietante e lo è perché ci sono sei storie esemplari, esemplari perché riguardano padri e madri che si sono trovati nella condizione di doversi separare e chi ne ha avuto probabilmente il peggior danno oltre a loro stessi sono stati i bambini. Renea Rocchino Nardari è avvocato di grande esperienza è anche un volto noto di questa città perché poi fa parte di molte associazioni per esempio è presidente della fondazione Onlus Zanetti che si occupa in generale di bambini in difficoltà soprattutto nei paesi più difficili e meno fortunati è molto esperta, quando ci siamo incontrate prima della presentazione del libro mi ha raccontato per esempio come è diventata avvocato della Sacra Rota, solo questo meriterebbe una conferenza per il modo simpatico con cui lei racconta degli esami difficilissimi da superare ed è una persona quindi esperta con grandi capacità tecniche, si occupa proprio di questo, di diritto di famiglia ha un carico e si fa carico a volte di storie terribili ma con la sua capacità tecnica e con le sue qualità umane riesce a il più delle volte risolvere i casi anche se non è affatto facile si è scontrata naturalmente nel corso della sua carriera con questa giurisdizione, questa legislazione molto farraginosa che complica la vita, la complica per chi vuole separarsi, la complica soprattutto per i bambini si comincia magari che hanno 14-15 mesi e si arriva a una soluzione quando hanno 6 o 7 anni è assolutamente inconcepibile e soprattutto questo volumetto che non è molto grosso però è molto significativo, i proventi di questo libro andranno proprio alla fondazione Zanetti di cui lei è presidente. Accogliamo anche con un applauso l'autrice e i nostri ospiti L'avvocato matrimonista non è solo un tecnico della legge ma deve essere abituato a trattare casi molto delicati talvolta drammatici e quindi ho sentito il bisogno di raccontare, spiegare, far partecipi anche coloro che non sono a conoscenza di queste situazioni conflittuali familiari per loro fortuna perché solo attraverso l'informazione e la conoscenza si può sperare di cambiare qualcosa non basta l'assistenza legale, l'assistenza psicologica per aiutare la gente ma bisogna fare cultura, parlarne un'attività che va oltre la professione La famiglia è senz'altro un insostituibile modello di formazione per i minori e l'organizzazione giudiziaria che si occupa della famiglia dovrebbe essere il perno della nostra società Io ho un caso, adesso non posso dire di cosa si tratta, ma naturalmente un caso dove appunto un giudice del penale mi è capitato che ha avuto per prima una causa di separazione non vi dico che sentenza è venuta fuori, che ancora piango purtroppo ma non si può pretendere che un giudice faccia formazione per conto proprio se è obbligatoria la fa e se no purtroppo ognuno di noi ha tante cose da pensare e fa solo le cose che sono vincolanti e obbligatorie e poi appunto oltre che per evitare la sovrapposizione di competenze tra il tribunale dei minori, il tribunale civile ordinario, il giudice tutelare, il giudice dell'esecuzione per evitare questa sovrapposizione io farei questa magistratura unica specializzata con l'aggiornamento per così si vengono accorciati i tempi delle procedure però è anche, bisognerebbe avere un collegamento fra le diverse figure professionali che manca attualmente manca un collegamento tra il giudice, gli avvocati, i periti, i servizi sociali ognuno va per conto suo, ognuno un mondo diverso con un linguaggio proprio e un insieme di valori professionali propri questa è la proposta mia che ho fatto tanti anni fa e che ritengo ancora attuale naturalmente migliorandola nei contenuti arrivando qui a casa di Carraresi il tempo un po' ci aiuta sono credo un po' di giorni che non sappiamo se piove o ci sarà il sole ecco io immagino un bambino piccolo che si chiede al mattino che tempo farà nella sua famiglia se dovrà avere l'ombrello e l'impermeabile o se potrà avere un po' di sereno per qualche ora o magari per tutta la giornata siccome Irene Pivetti è anche un opinionista che voi avete visto spesso nelle trasmissioni televisive ma è anche una mamma ed è anche una mamma con due ragazzini ormai ed è anche una mamma separata e quindi credo che possa anche raccontarci un po' la sua esperienza sì grazie io sono felice di essere qui a concorrere alla presentazione di questo libro così interessante devo dire un libro che mi ha commosso leggendolo e che non mi aspettavo perché pur essendo amica di Renea e quindi conoscendo la sua sensibilità insomma fa pur sempre l'avvocato cioè mi aspettavo una roba di avvocati non so se mi spiego sì mi immaginavo che fosse un libro sensibile attento e scritto magari in modo facile anche quindi per non addetti ai lavori non immaginavo che corresse cioè che si prendesse l'ardire di raccontarle in prima persona le storie e quindi profondamente dal di dentro e cioè esattamente come le vivono le persone che sono oggetto della sua attività professionale quindi devo dire mi ha davvero colpito profondamente sono molto felice di averlo letto e anche onorata di essere qui a presentarlo perché io per tanti anni quando facevo politica mi sono occupata tanto spesso di questioni familiari non specificamente di separazioni ma insomma di problematiche familiari sì e ovviamente tra queste anche delle separazioni ma in tanti anni non mi era mai venuto in mente che quando due si separano uno dei due potesse non volerlo e magari a qualcuno anche in questa sala non è venuto in mente prima si dà proprio scontato che quando due litigano litigano poi si dice beh per il bene dei figli finalmente si separano allora io mi devo dire onestamente almeno in un caso cioè il mio non è detto che sia sempre così perché ci può pure essere cioè fa parte del matrimonio se in questa sala ci sono delle persone sposate penso che ce ne siano parecchie sanno perfettamente che qualsiasi storia d'amore compreso quella di Giulietta e Romeo ha i suoi momenti di litigio e nessuno tranne gli interessati sa quanto sia giusto che debbano durare questi momenti di litigio per ritrovare un equilibrio d'amore quindi non è vero in assoluto è vero qualche volta ma non è vero in assoluto che piuttosto che litigare è meglio separarsi dipende perché si può anche litigare con amore si può anche litigare odiandosi in quel momento lì ma in un quadro che alla fine dei conti è di amore voglio dire tutto poi alla fine resta affidato al magistrato il quale resta col cerino in mano però voglio sottolineare ricordando quello che dicevo prima e sottolineando questo aspetto la quotidianità del nostro lavoro in materia di famiglia è drammatica e voglio anche spiegare perché noi abbiamo abbiamo delle convenzioni proprio con i servizi sociali proprio per per renderli funzionali anche le nostre esigenze ma la coppia povera che si separa non ha neanche in giudizio gli strumenti diciamo della coppia di assistenza della coppia ricca tante volte vedo si chiedono consulenze tecniche io l'ho detto più volte ma le consulenze tecniche nel processo civile chi le paga? se le paga le parti io mi domando come faranno questi a fare la difficoltà viene particolarmente acuita quando c'è una povertà economica della coppia che si che si separa veramente questo drammaticamente e devo dire non si venga poi a dire poi ho finito anche che la una volta la famiglia era più sana di adesso perché statisticamente si separavano di meno una volta la situazione era difficile perché una volta separarsi per una donna era praticamente impossibile perché priva di reddito proprio e venivano fuori situazioni veramente drammatiche quindi conclusivamente per dire riprendo un po' il discorso io condivido l'idea della professionalità in tutti i campi in tutti i settori soprattutto certo nel settore della famiglia su questo non c'è dubbia il magistrato in particolare deve essere un magistrato che ripeto adesso noi ci formiamo sul campo c'è chi ha più perché non tutti si è capaci di fare tutte le stesse cose non siamo onniscenti ovviamente e la capacità di un magistrato di fare il la materia della famiglia deriva anche dalla sua umanità educarsi alla cultura di una costruzione dell'unità che è sempre possibile questa è sempre possibile se non mettiamo la testa fuori dall'acqua a guardare un po' che cosa c'è intorno non c'è magistrato non c'è avvocato che ci può salvare ci facciamo travolgere quindi io sono profondamente grata anche di quelle parole che sono una grandissima parola di speranza veramente una grande parola di speranza per chi si trova in queste acque agitate il mio augurio è di uscire di qui di incontrare sempre ragazzi con lo sguardo pieno di sole che siano figli di separati o di una famiglia regolare non ha importanza cerchiamo di essere sereni un po' di buon senso come ci suggeriva Irene Pivetti grazie a tutti per questa serata grazie grazie a tutti